Sono molto emozionato perché il primo gol in Serie A non poteva andare meglio ovviamente Abbiamo preso tre punti importanti per questa stagione Insomma l'importante era questo Questi sono i risultati del duro lavoro effettuato in allenamento E' giusto anche che sia così Tanto ci osserva anche Luis Felipe che fra poco sarà con noi Varegem won a pitch against Ghent What team is this? Now we play against Varegem This is a really good team But we play home and this is really good And I hope we can win this game But Varegem is a really good team with a good coach And I know him very well because I play there And you know very well other players Kaia, Saponic, Olamic A lot of players is there When I play there they stay there Saponic is a new player who is from Serbia I know him also Ex-partisan? Yes He plays partisan and then after Sicuramente il Varegem è un'ottima squadra Con un ottimo allenatore Franchi Duri Quindi è giusto fare attenzione a questa squadra Che ha vinto sul campo del Ghent Ha tanti giocatori di qualità Ha per esempio Saponic Lo riconosce molto bene Un giocatore Serbo Ex-partisan E quindi bisogna stare molto attenti Chiaramente anche Ai suoi attacchi Thank you Adam Non so ci sono domande Sabrina Sì Luigi Soltanto una Ha intenzione di imparare Marusic All'italiano Magari la prossima intervista Cominciamo anche con qualche parolina O no? You must learn Italian Of course I will start to To have lessons Maybe next week And I need really fast To To start to speak Italian Because it's really important Because a lot of players Here don't speak English And then it's really important For me to start to speak Italian Really soon È importante parlare italiano Dice alcuni giocatori Giustamente non parlano inglese Quindi giusto potessi rapportare In lingua madre Quindi meglio fare italiano Luis Felipe sta dicendo Parli già italiano Dovesti provare già da adesso Vuoi dire qualcosa in italiano? Poco 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 Piano piano Vabbè Bene no? Sì Saluto Sabrina Ciao 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 e congratulation Marusi Allora questo era Marusi Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti